benvenuti nel mio canale riccardo fiorini e questo è ciò che faccio nel mio canale nel suo tempo libero mi chiamo queste bombe mi chiamo stefano e gli dico vieni a vedere i miei posti dai c'è le bombe e ragazzi seguitelo questo canale perché è qualcosa di eccezionale l'unica cosa è che li trova piccini lui quando va nei sui posti vedi li trova piccoli e allora mi dice ascolta vieni sul mio canale vieni a vedere i funghi del mio canale perché noi si trovano funghi con il canale cioè prima se non si collega al canale tramite il canale trova funghi come il rabdomante con il bastone non ci sa il canale il canale seguiamolo vedete il canale sta andando eccolo qua il canale ha il canale che ti uno segue il canale eccolo qua segue 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 il canale esce un attimo dal canale che cos'è quello un fungo comunque ancora non l'ho visto anche il terzo piccino piccino anche questo di misura un missile praticamente però poi sto missi non sono neanche brutti bello ti tolgo anche l'ultimo leva leva riccardo fiorini io ti porto nei posti questo tipo di bello migliore poi di te natura wild oggi vedi guarda che roba mamma mia che funghi che funghi che funghi che ragazzi agosto non diciamo il posto e la data ma vi assicuriamo è agosto eccolo qua grande ricca guardate maglietta ragazzi seguitelo seguitelo seguite il canale troverete il funghi nel bosco però no no quello mai eppure mi avevano detto di seguire il canale ma maria è manpestata io lo sto seguendo il canale seguo il canale eccolo qua lo seguo lo seguo e non è il fungo io lo seguo il canale ma il fungo lo trovo vabbè prima o poi me l'hanno garantito mi hanno detto che se seguivo il canale qui c'è l'acqua quindi siamo nel canale giusto e allora seguo seguo il canale seguo il canale in cima al canale ci dovrebbe essere il proprietario del canale vediamo vediamo se in cima al canale riccardo cioè in cima al canale non faccio un tempo ad appoggiare quelli che ne hai trovato prima guarda che sono giuta fuori guarda 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 si segui il canale ragazzi guardate le roba guardate le roba ah questo peccato aveva il gambo rotto guarda funghi e nai giusto due oggi giusto due da un riccardo guarda 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 guard